Sono Francesco Tosi, responsabile di prodotto Caldaia Biomassa di Fisman Engineering. In questo video vi presento il corso online dedicato ai nuovi generatori a biomasso Fisman. Il corso ha la durata di un'ora e mezza ed è rivolto ai progettisti, agli energy manager e ai responsabili aziendali. Lo scopo del corso è fornire indicazioni per la valutazione e scelta dei principali componenti di un moderno impianto a biomassa di media e grande potenza. Ci soffermeremo sulla scelta del sistema di estrazione del cippato e sul corretto sistema di filtrazione e trattamento dei fumi da abbinare al generatore. Clicca sul link e iscriviti subito, ti aspettiamo!